questo pezzo di manzo svedese ma ce l'ho fatta apposta abbiamo famiglia eh non l'ho dato no lei no lei no lei no lasciateglielo si io lo lascio volentieri guarda è dell'Ikea lui quindi puoi montarlo e smontarlo come vuoi non è un problema dai Alba attenzione Alba la presenza di questo superbo pezzo di manzo di carne svedese ti permetterà laddove mi facessi la tripletta di poter raddoppiare il valore del piticozzo che andresti ad estrarre giusto appunto dal piticozzaro è molto... ah certo è molto toro toro si si ma è tutto atteggiamento poi dopo purtroppo lo so lo so viene via conosco il genere maschile domande si antropologiche my god i membri della tribù dei bodi che abitano la valle dell'uomo in Etiopia hanno la peculiare usanza di cantare poesie alle mucche o stornelli ai banani alle mucche esatto poesia alle mucche perché? beh perché considerano un animale sacro immagino cantano cantano poesie alle mucche per come ode all'animale a ciò che producono ma l'abbiamo fatto anche noi in Italia con chi? tamo piobove mite un sentimento di vigore e di pace al cor minfondi che tu solenne come un monumento guardi i campi liberi e fecondi e che al gioco inchinandoti contento la gilopra dell'uomo grave secondi grazie 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 grazie